Allora, siamo con Totò Rikiki, c'era poco da fare, avete messo tanta grinda, tanta opposizione a questi giocatori che sono di una spanna superiore, diciamo. Beh, sì, che sono giocatori di categoria superiore, questo era in dubbio. Però io da parte mia ho visto un primo tempo alla pari, completamente alla pari, anzi rischiando pure qualcosina in più. Certo, poi ti trovi sotto due gol e devi rimontare, con la loro esperienza è anche difficile, però noi credo che abbiamo fatto un'ottima gara. Dove può arrivare questa odissea, visto sabato scorso la vittoria di Ostia e la buona prestazione di oggi? Eh, questo dipende molto da noi, può arrivare lontano come può arrivare vicino. Noi dobbiamo pensare sabato dopo sabato, se giochiamo così e mettiamo la stessa voglia che abbiamo messo oggi, soprattutto il primo tempo, possiamo arrivare lontano, non dobbiamo soltanto metterci i limiti. Sabato si riposa, forse non è un bene. No, decisamente no, campiata di squadre, riposiamo, era meglio giocare e mettere benzina in corpo. Va bene, grazie. Grazie a te.